Italia-Austria, tra poco si gioca e per te sono ricordi importanti quel canale del mondo del 90. L'Austria mi ha portato fortuna perché quella partita mi ricordo che noi non riuscivamo a segnare nel primo tempo, la porta era stregata, poi nel secondo tempo noi attaccavamo, il risultato non si sbloccava e Vicini mi chiamò in panchina e mi fece entrare. Io fece quello subito dopo 5, ho dei ricordi bellissimi, dei ricordi straordinari, come se fossi ieri, quindi a me è portato molto fortuna, speriamo che porti fortuna anche all'Italia. Come la vede questa partita? Difficile? Perché si parla di un'Austria molto compatta, granitica, ma l'Italia col suo gioco può in qualche modo mettere in difficoltà. A me mi ha impressionato molto l'Italia in queste tre partite, quindi sono molto fiducioso, sono dei ragazzi che hanno una grande voglia, Roberto Mancini ha formato un bel gruppo, c'è molta competizione fra di loro perché ognuno di loro vorrebbero giocare, però c'è il gruppo, un gruppo importante, unito, un bel centrocampo, credo che il motore di questa squadra sia Giorginio, ha molti doppioni in ogni ruolo, fa ben sperare, è una squadra unita, corre, pressing, diciamo che con l'asta sulla carta è una partita che dovrebbe essere abbordabile per l'Italia, però bisogna scendere in campo e giocarla con la massima concentrazione e soprattutto non prendere mai l'avversario sotto gamba. Chi potrebbe essere il Totò Schillaci di questi europei in casa dell'Azzurra? Non lo so, guarda, ogni volta che ci sono i mondiali o gli europei tutti mi fanno sempre questa domanda. Io spero che un attaccante nostro, Immobile o Bellotti o Raspadore, possa fare il stesso cammino che ho fatto io in mondiale. Me lo auguro e soprattutto che possano dare un contributo a questa squadra. Per chiudere, Totò, utopia, sogno o realtà l'Italia tra le prime quattro, almeno in finale in questi europei? Non è una delle favorite perché ci sono delle squadre come la Germania, la Francia, il Belgio e qualche squadra può tirare fuori anche l'Olanda, però è lì, è lì tra i primi quattro e la vedo bene, la vedo diciamo tra i primi quattro. Io mi auguro che possa arrivare in finale e vincere naturalmente.